Musica Sam, dimmi che hai la croce Sandisma è qui con me, vuoi salutarlo? Abbiamo sollevato un vespaio, la sala da ballo è isolata, la sicurezza disturba il segnale Ehi Victor, come ce ne andiamo? Andate al vialetto anteriore, seguite i riflettori, io arrivo con l'auto Salve a tutti ragazzi e bentornati da Make Show Riprendiamo dal punto in cui ci siamo salutati nell'ultima puntata di Uncharted 4 E siamo in pericolo, dobbiamo scappare dalla Villa Rossi Abbiamo rubato la croce di Sandisma Oh cacchio, che succede? Ci sono degli uomini armati, l'indicatore di minaccia bianco Vabbè si carica quando ci scoprono, giallo, sono sospettosi E poi ragazzi, quando diventa rosso-arancione così, sono cozze a mare Quindi scappiamo Vi dicevo, nell'ultima puntata abbiamo truccato volendo Abbiamo fatto calare la notte Abbiamo fatto spengere le luci sull'asta che avrebbe determinato Il passaggio sostanzialmente della croce di Sandisma Quella che potrebbe avere all'interno delle informazioni vitali per quanto riguarda Oh mazza, sono cattivisti Rossi Ci impiccano davanti alla villa Insomma ragazzi, lì dentro ci potrebbero essere delle informazioni succose Per quanto riguarda il... Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre Madonna come parlate ragazzi, fatemi parlare a me, va Insomma, informazioni vitali per quanto riguarda il tesoro di Harry Ever Il più grande bottino pirata della storia della pirateria appunto Poi magari ragazzi, immaginate, non è veramente... Insomma, non sono veramente soldi dubloni In realtà si parla di 400 milioni di dollari Cioè, una cifra da capogiro che sta facendo ingolosire più di un ricercatore Più di un avventuriero Noi ragazzi, dobbiamo aiutare Sam a trovare questo tesoro Prima che il tempo scada Perché c'è stato un accordo, diciamo Con Hector Alcazar Il boss della droga Che ha aiutato Sam a fuggire dalla sua prigionia Che durava ben 15 anni Intanto io sto aspettando che la luce se ne vada Però a questo punto mi sa che... Ah! Ecco fatto, abbiamo allarmato Dobbiamo portare le pistole Eh sì, forse sì, forse sì Comunque ragazzi, nell'ultima puntata abbiamo scoperto un sacco di cose fantastiche Cioè, non così fantastiche Come quella che... Abbiamo Nadine Ross e la nostra vecchia conoscenza Rafe Che si sono alleati alla pari Quindi tutte e due cercheranno di trovare il tesoro di Harry Avery Nadine Ross in realtà ha un esercito di mercenari E questo non va bene Comunque abbiamo aggirato E per rampicarmi per vedere meglio Eh sì Arrampichiamoci all'alto Se riescono a svegnarsela Non ce la faranno Li troveremo e li riempiremo di buchi Ma Sappiamo cosa fare Resta concentrato D'accordo Vabbè Imparate a parlare Soprattutto Ragazzi Sfruttiamo questa erba alta Che ci dà l'opportunità di muoverci in maniera un po' stealth Diciamo che in queste prime fasi Cercheremo di giocare più stealth possibili Quindi quatti come gatti E gli facciamo sentire la presenza Sono in marcia Devo salire più in alto per orientarmi Ok A dopo Sì Ok Saliamo queste scale che sembrano impetuose Così Ma perché corrono tutti per ste vie Comunque dai ragazzi Facciamolo Come vi dicevo prima Lo faremo Attenti Stiamo sotto la luce Sbrigamoci In maniera un po' più stealth Visto che è una delle novità Di questo Uncharted Mentre nell'altro Era un po' più Sparazione No Attentiamo qui dentro Non ci frega niente di niente Ok Non è successo niente Nessuno mi ha visto in faccia Se mantengo la calma Uscirò di qui passeggiando Sì Se non fosse che c'è tutti i vestiti sporchi Ma chi se ne frega Ragazzi Dentro questo posto Sono sicuro che troveremo Dei baldi tesori Ok Magari Senza Senza farci notare E senza distruggere Inestimabili Vasi Ming Oh Pardon Tu non dovresti essere qui Oh caspiterina Non sono il solo Facciamo così Io non dico niente E neanche tu Hai una cosa che mi appartiene E adesso me la darai Davvero? Beh L'offerta Mi lusinga Ma sono occupato Ora se non ti spiace Non sono in vena di giochetti Dammi il crucifisso Signorina Sono un centiluomo Sei fortunata Sennò Ok ho capito Mi ricorda Non vorrei farlo Vediamo che sai fare Ok Andiamo Nathan Drake Come fai a sapere la fama mi precede a quanto pare Sì infatti pensavo Da quello che aveva detto Che non ci conoscesse Troppo scontato Ma io non vorrei piccarla C'è una possibilità Abbiamo un vaso o l'abbiamo ru... Ok Oh questa picchia ragazzi Ci sono andato piano Omaggio a mio Oh che bravo Ah poi questo becca proprio sui reni Guardatela Non posso schivarli tra l'attessi colpi Questa sta facendo durata Ora dammi il manufatto Sì più precisa Non ti appartiene contratta Sai quanti manufatti ho recuperato negli anni? Dovrai essere un po' più specifica Cercherò di essere più chiaro Oh ragazzi ci stiamo facendo pistare come luva Senti Soprò ancora il jet lag Perché non la finiamo qui? Guarda è meglio che non gli dici queste cose Perché questa qui Ragazzi ci sta menando come Mi menava mia madre con la gocchiarella Ne hai abbastanza? O vuoi continuare a fare il furbo? Così ci fai cacciare Sai stai danneggiando un sacco di cimeli preziosi qui Se non fai attenzione ci sbatteranno fuori Aspetta aspetta È nella tasca dietro Dove diavolo è? Cosa è qui? Ok Ok siamo vivi Siamo vivi almeno Ok sono alla macchina Dove diavolo siete? Ho appena incontrato la tua amica Nadine Ross È adorabile Qui c'è il caos Cercano di tenere la situazione sotto controllo Ma sono tutti impazziti Senza fretta Ma muoviti cazzo Nathan dove sei? Senza fretta Ottima domanda Tu? Nei pressi della sala da ballo Cerca un cartello rotondo Sulla strada Cartello rotondo Ok La buona notizia è che ho una pistola A dopo Ce lo giuro Ho visto qualcuno che usciva dalla finestra della biblioteca Me lo giuri Andiamo ragazzi Andiamo C'era via da qui Controllate i tetti Controllate i tetti No non lo fate per favore Ragazzi Nadine Ross ci ha Venato come Non lo so Come un bulletto tastaprazzo Cioè veramente Pensavo C'è sta succedendo qualsiasi cosa in questa puntata Dai dai Daiè Eeeh Aspetta Atta Sperta Beh C'è sem Aspettino le bancole Salvo Aspetta Cosa? Oh marda Ma sparagli te no Che roba Ma che No Olisciato Boom наш No, lishot, 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 vabbè Scusa, volevo fare un po' di ashot Non mi posso lamentare Non so come raggiungerti da qui Tu riesci a scendere? Sì, credo di sì Ok, ci vediamo al violetto Ok, ci vediamo lì Vai ragazzi, dai, andiamo alla sala da ballo Eccoli Sei tacciato l'aria Sei tacciato l'aria La mia più veloce è la sala da ballo La sala da ballo non è isolata Beh, ora che sanno che siete qui l'hanno scomperata Sarà da ballo sì, ok, nata Ricevuto Oh, ragazzi, è la terza volta che mi butto nel vuoto Oh, vai così Andiamo ragazzi Ci stanno insultando le mamme Quindi direi di farli fuori a questi qui Tra l'altro vorrei cogliere l'occasione, ragazzi, per dirvi una cosa Visto che tanti mi chiedete Mike, fallo con la facecam, fallo con la webcam Fallo così Ragazzi, ma queste sono puntate vecchio stile Questa è una serie vecchio stile A parte che il gioco è troppo bello Non lo posso sporcare con la facecam Cioè, ma questa è una serie vecchio stile Voi forse non lo sapete Ma le mie vecchie serie Sono sempre state così Cioè, tanto, tanto divertimento Tanto è, ma spazio al gioco Se io mi metto con la facecam Magari avreste visto Un uomo in lacrime davanti a Crash Bandicoot Ok, eh, forse lì sarebbe stato divertente Però, in queste situazioni Distrae tantissimo Cioè, questo, ragazzi, non è un gioco È il gioco Non possiamo cazzeggiare È una scelta stilistica Tanto, cioè, le cazzate sono sempre le stesse Ma quello non se n'è accorto Quello non se n'è accorto Io se fossi il capo Perché, perché questo prende lo stipendio? Perché? Tanto gli romperò il collo Tra l'altro, quel tizio A quell'anteprima Mi aveva insegnato Tutte queste tecniche un po' Malandrine Vabbè Comunque Potremmo passare sotto Ma no, noi andiamo sui detti Perché siamo come D'Artagnan Cioè, come vi dicevo prima, ragazzi In questo momento facciamo un po' più stelta Lo so che l'ho già detto più di una volta Però È la novità È così Quindi, per il momento Giochiamola un po' stelta Ma Poi il divertimento è quello di menare E soprattutto sparare Oh Cazzotti in bocca a tutti Cazzotti alla contadina per te Ora, dove ce ne andiamo? Vediamo un po' Nata Sono alle corde qui Mi servirà a te una mano Arrivo, seno Eh, eh Piano piano Ragazzi, spostiamo ste cose che Ho sentito qualcosa Vai a dare un'occhiata Vai Mannaggia al cuore Cioè, me devo stare a sentire questi che parlano così male Cioè In realtà la cosa è figa che parlano così male Vuol dire che hanno fatto una cosa figa Però Mi ricorda, ragazzi Il doppiaggio Di The Legend of Dragoon Sicuramente i più giovani non se lo ricordano Ma Chi è del 1990 Come me Che quindi ha iniziato a giocare con la Playstation 1 Se ricordate Oppure se non avete mai giocato a un gioco così È uno dei più belli RPG Anzi, JRPG No, no RPG perché non era giapponese Cioè L'impostazione sì Ma Penso fosse Era della Sony Quindi pensate un po' Comunque Vabbè Chi se ne frega L'importante è che ci aveva L'importante da sapere È che ci aveva Un doppiaggio ridicolo Tipo Fiammata Cioè L'attacco era fiammata E Il protagonista faceva Fiammata Non era niente Eh, no Non era niente Faceva proprio cagare Cioè veramente Oh, ciclone punitivo Una Stai E vado Questo è mai ma scopertetto Vedete Questo è il colpo di The Legend of Dragoon E il suo doppiaggio di merda Vai Ciclone punitivo Doppio colpo Insomma Non te cacchiate così Comunque Ridendo e scherzando E sfottendo Il gioco più bello Che ho giocato Da bambino Ma che figata è Cavolo Ehi Come andiamo Ho fatto un'entrata In grande stile Eh, shot, bitch Eh, sì Anch'io Anch'io me ne vorrei andare Ragazzi Tra l'altro Facemmo anche l'asta A quell' Oh Troppe persone Stanno cercando di andare via Il vialetto è bloccato Vattene da lì Merda Il piano di canna Avete presente la fontana Fuori dalla sala da ballo Ci vediamo lì Ricevuto Andiamo Ragazzi voglio distruggere le statue di ghiaccio Prima cosa Magari sblocchiamo un troppo No Vabbè stato figo lo stesso Ragazzi è tutto distruttibile Sta cosa è figa Se ci avessi avuto una granata Avrei fatto il devasto Ma ci siamo rubati solamente Un fucile a pompa Che a questa distanza veramente È utile come un cesso in cucina Come direbbe qualcuno E dai Siamo in due Ce la possiamo fare Noto ragazzi Che il gioco non è che è più difficile Perché stiamo giocando a livello normale Così Poi ci sarà tempo per giocarlo a livelli più alti Ma Vedo che Noto con piacere Andiamo giù con molti meno colpi Boom bitch Cioè Un paio di colpi Qui diventa già tutto nero Appena metti fuori la testa Tac No Eccoli bastardi Hanno chiamati di forzi Ma non si stanno a vedere la partita È proprio un gioco ragazzi Perché se fosse Se ci fosse stata ancora la partita Questi non sarebbero usciti Né muo né mai Inghilterra vincente Traditore Dai vieni qua Vieni qua A proposito dei traditori ragazzi Non c'entra niente in realtà con i traditori Ma Ve lo voglio dire in un momento così caotico Questa mattina Ha suonato il postino E mi ha recapitato Una bella Eh no coppia Aaaaa Sparò l'impazzata Mi ha Recapitato ragazzi Una bella Confezione Un bel pacco E dentro c'era Eeeh La collector edition Di uncharted Che mi ha regalato appunto Sony playstation italia Quindi grazie Perché è veramente una cosa strepitosa Ragazzi Tra l'altro poi Si è andato a vedere Che Tipo le vecchie collector No Perché uno dice Ah spendi i soldi Per le collector edition Ok Però ragazzi Per esempio La collector edition Di uncharted 2 Eeeh Viene venuta Su ebay A Siete pronti 6500 euro Non resisteremo Per molto Resisti ragazzo Ci sono Quindi uno Quando compra Ste cose Per il tuo piacere Ragazzi Perché cacchio Se uno deve spendere i soldi Pianciarte Di soldi Li spendi Eeeh Però insomma Ragazzi E' anche un investimento Infatti Non a caso Ho preso anche La collector Di Final Fantasy 15 Perché quella Si ragazzi Che Varrà qualcosa Soprattutto perché Ce ne sono solamente 20.000 In tutto il mondo E pensate Il giorno stesso Che l'ho Eeeh Reordinata E' finita E le vendevano Il giorno stesso 800 euro E dammelo va Vabbè Stavamo parlando Di qualsiasi altra cosa Che però Ci dobbiamo concentrare Sul gioco Mamma mia Il vecchio stile Quanto Volevo una limousine Io volevo una limousine Però Volevo anche Il gatto nero Ma tu me l'hai dato bianco Perché non giovo più Oh buttiamo Eh ragazzi Mi sa che i ragazzi Non li dobbiamo uccidere tutti Perché Continueranno a spawnare A bestia Però abbiamo sbloccato Troppo La granata Ce l'avevo sulle palle Ok Via 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 No ragazzi Non muoio adesso Non muoio adesso Grazie Bella mira ma ancora Stiamo qui a sparare Forse quello è l'ultimo No raga Continuano a venire Dobbiamo scappare Dalla limousine Mangiate sta colpetta Va bene Non farmi incazzare Non farmi incazzare Dai ci sto Toglimi questo strozzo Di dosso Dai che puzza Vai bello Ciao niente È stato facile Namo 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 Via Vivi È la cosa più importante Scappare da questo posto Vivi Ok Spero di non finire All'inferno Oh merda Che c'è? È vuota Cosa? Dai Il solito coglione È tuo fratello Ottimo Teschi e ossa incrociate Promette bene E lo stiamo di Eberi E questo cos'è? Odie me cumeris in paradiso Maggi sarai con me in paradiso In paradiso Sono le parole che Gesù disse a Santisma sulla croce Esatto Cosa pensi di quei numeri? Che significano? Sarà un codice O un telefono Andiamo Sono date Eh? Guarda 1659 È l'anno di nascita di Eberi 1699 Indovino In quello è morto? Beh secondo molti sì ma Vuol dire che C'è la data di nascita, di morte E il paradiso Quindi bisogna cercare La tomba di Eberi Nella cattedrale di Santisma Un attimo Rafe non sta setacciando quella zona da una vita? Sì La cattedrale Vedi questi simboli? Sì Si trovano sulle antiche lapidi scozzesi Ok? Ora Guarda qui La pianta della zona è piuttosto insolita Qui c'è la cattedrale Ma il cimitero Si trova qua giù Rafe sta cercando nel posto sbagliato Esatto Ragazzi Si va in Scozia Ehi ehi No un secondo Vi rendete conto che Rafe aspetta solo voi? Sì ma ci penseremo una volta lì Quel pazzo farà i salti di gioia Quando vi vedrà arrivare Senza contare che Anadine è il suo esercito dalla sua Sì ma lui non ha questa Abbiamo il più grande tesoro pirata della storia A portata di mano Pensavo lo facessimo per salvare Sam Infatti Le due cose sono collegate Ci serve il tesoro per salvare Sam Ed Ellen è d'accordo su tutto? Merda ragazzo E non è così semplice Aspetta Dopo quello che avete passato insieme Questa volta non capirebbe Tu la sottovaluti ragazzo Non posso correre questo rischio Nathan ha ragione Le cose sono cambiate C'è di mezzo Rafe E posso cavarmela anche da solo Davvero Ok bene Grazie per i consigli a tutti e due Scusate Ragazzi però vedete Io sto dalla parte di Sally Perché Cioè vedete lui come ha capito la situazione Cioè Sam ci sta portando di nuovo sulla cattiva strada Non lo so C'è qualcosa che non va amico Senti io Capisco non sia stato facile Tutti questi anni lontano E mi spiace per quel che ti è successo Ma non è colpa sua Questo non l'ho mai detto Gli c'è voluto molto tempo per uscire dal giro Qualcuno l'ha costretto L'ha scelto lui Ok è nato per questo lavoro Lo credi davvero? Perché sei qui Victor? Perché qualcuno dovrà pur coprirgli le spalle Sì ci vediamo tra qualche settimana Sì Certo Ok Ti amo anch'io Ciao Non lo so ragazzi Le ho detto che il lavoro richiederà più tempo del previsto Il che è È la verità Ok Allora che ne pensi? A Sam serve il nostro aiuto Beh Ho sentito che Il clima è particolarmente Mita in Scozia In questa stagione Dai vabbè ragazzi Almeno se abbiamo Sully a guardarci le spalle Stiamo un po' più sicuri Però Beh Non lo so La cosa buona è che si concentrano sulla cattedrale Vuol dire che avremo quel cimitero tutto per noi Sully Sì? Senti noi qui siamo pronti Ok ragazzo Buona caccia Sei ancora in tempo per venire? Ah no Se non c'è un ascensore Credo rinuncerò D'accordo Ci vediamo dopo Ehi Nate Sì? Vedi Vedi di portarmi roba luccicante Questo è il piano Forza Porgiamo maggior capitano Avery Ok? Vabbè ragazzi Dai io direi che ci possiamo salutare qui per questa puntata La tomba di Henry Avery Non lo so Ci sono un po' di tematiche di cui parleremo nella prossima puntata Questo fatto che Nate sta tirando un po' troppo la corda con Elena C'è Sully che ha capito la situazione Ce l'avremo alle spalle Ma non so Ha capito che Sam ci potrebbe riportare in quel circolo In quel vizio dell'avventura Non lo so Lo scriveremo nelle prossime puntate Un saluto a tutti da Mike Show Ci arriviamo da qui nella prossima Alla prossima E ovviamente Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao